Grazie che avete fatto la sfilata con bellezza e coraggio, sono veramente fiere di voi. Grazie a tutti i presenti che stanno dedicando il loro tempo gratuitamente per questo evento. Grazie veramente di cuore. Avete donato un momento vostro per aiutare le persone in difficoltà e chi sta attraversando le varie situazioni, è un po' complicato. Sarebbe bello che chi c'è lì all'evento come ospiti o qualche spettatore che fanno una donazione a Dance for Oncology, qualsiasi cifra che va bene, anche un euro che ti fa sentire bene, ma la cosa più importante, fate bene per gli altri. Allora, buona serata e vi voglio bene e vi mando un bacio e un abbraccio. Ciao ciao!